Alla TORC ci piace semplificare le cose. Dispenser asciugamani a rotolo TORCMATIC. L'erogazione singola riduce i costi efficientemente ed offre una migliore esperienza d'uso delle aree bagno. L'erogazione singola riduce anche i consumi e gli sprechi, migliora l'igiene e consente di risparmiare. Così semplice. Con TORCMATIC gli ospiti usano in media solo due o tre asciugamani, contro i sei utilizzati con i dispenser di asciugamani piegati a C. Il 140% in più di asciugamani piegati a C usati e sprecati rispetto a TORCMATIC. TORCMATIC elimina il rischio di ostruzioni quando il dispenser di asciugamani piegati a C è vuoto, TORCMATIC continua riducendo così l'impatto ambientale. È un dispenser di elevata capacità. Il rullo del dispenser usa tutta la carta del rotolo evitando così di rimanere senza. Maggiore capacità e meno rifiuti e riduce il numero dei servizi di manutenzione. Sistema estremamente igienico. Solo si tocca l'asciugamano che si userà e quindi molto igienico. La pulizia è agevole grazie al suo design arrotondato e al suo montaggio ad incasso. Veloce e semplice da caricare. L'indicatore mostra quando il rotolo è quasi esaurito. Aprire il dispenser con la chiave universale oppure premere il tasto di apertura. Le istruzioni si trovano all'interno del dispenser. Rimuovere lo rullo e posarlo nell'alloggiamento sul retro del dispenser. Prendere un nuovo rotolo. Rimuovere l'involucro. Inserire il nuovo rotolo posizionando il connettore a sinistra. Un clic segnalerà il corretto montaggio. Fare scorrere la carta nell'apertura sopra le due frecce. Chiudere, premere il tasto di chiusura ed estrarre il primo asciugamano. Chiudere a chiave per evitare furti. La elevata capacità di Torcmatic risparmia tempo agli addetti alle pulizie. Pulizia facile, manutenzione semplice e un'alta capacità consentono di ridurre gli interventi di ricarica. Efficiente dal punto di vista dei costi, agevole e irresponsabili delle strutture. Riduce i tempi di manutenzione e i costi lasciando una buona impressione agli ospiti. La gamma del dispenser di asciugamani a rotolo Torcmatic è ideale per rispondere a tutte le esigenze delle aree bagno. Torcmatic Un dispenser manuale essenziale per le aree bagno ad alto traffico. Torcmatic con Intuition Sensor. Il dispenser è attivato da un sensore. Ideale per le zone bagno dove l'igiene è fondamentale riducendo i rischi di contaminazione incrociata. Torcmatic Image Design con Intuition Sensor. Perfetto per causare una buona impressione. Tutti i dispenser Torcmatic possono essere usati con 5 ricariche. Extra soft, soft, extra lungo, blu e verde. Torcmatic. Erogazione singola e molto di più. Maggiori informazioni su Torcmatic. Grazie a tutti. Grazie a tutti.